Rieccoci al momento delle curiosità artistico-letterarie. Nel sondaggio che avevo messo nelle stories, la sfida era tra Saba e Luigi Pirandello. Ha vinto quest'ultimo, commediografo, romanziere di fama internazionale, che ha cambiato il volto della letteratura tra 800 e 900. Quindi eccoci a raccontare una curiosità su Luigi Pirandello. Dovete sapere che il nostro Luigi era particolarmente narciso, ammise lui stesso di passare più volte davanti allo specchio a baciare la sua immagine riflessa durante il giorno. In ogni caso aveva parecchio fascino, tant'è che moltissime studentesse cadevano ai suoi piedi. Vi racconterò tre dei casi più eclatanti. Una studentessa gli riempì le tasche di bigliettini amorosi, un'altra l'iscrizione a lettera in cui gli disse che sarebbe suicidata se lui avesse continuato ad ignorarla ed una terza arrivò persino a spogliarsi davanti a lui. Come reagì il nostro Pirandello narciso? Con orli e richiami e note sul registro, perché lui poteva baciarsi davanti allo specchio, ma giustamente le sue studentesse non potevano avvicinarsi. Insomma, era un uomo tutto ad un pezzo alla fine.